ragazzi buongiorno ieri era domenica ho fatto riposo perché c'è troppo movimento in giro oggi sono al mia per la premiazione della razza piemontese la fiera di quaresima andiamo a vedere cosa c'è iniziamo con una fuga un signore che conosco buongiorno scommetto che quella mangia lì che scappata è tua reparto vitellone femmine incroci stiamo facendo toilettatura bello bello guardate lo spessore della pelle quanti mille io non ne capisco niente più sottile meglio ma c'è il live ma c'è la iphone mi pensavo che i commercianti toccassero così perché l'ha comprato marco ballario macelleria a 6 e io gli ho parlato fino adesso l'ho mica conosciuto ma ho trovato un signore che mi conosce dei due sergiotti e mio figlio al pascolo lì da voi con le pecole si ma però lui a terra roma di rosa ah ah boh boh adesso laggiù ah boh lui non mi dice niente tutti mi chiedono dove le pecore luca le ha da te boh solo saluta luca così ti vede e tua nipote ciao luca ciao e tua nipote lucrezia mia lucrezia ciao la grazia l'anno scorso aveva il vitello ma hai qualcosa qua o no adesso quest'anno niente ma tu una volta avevi le trebbie dicevi le mieti trebbie sì ma l'avevo 20 anni e che anno avevi iniziato? del 67 68 quanto costava la prima trebbie? 7 milioni 7 milioni mia mamma ci ha arrabbiato e con 7 milioni si comprava un alloggio ci voleva i soldi invece li pian pianino i primi due anni abbiamo fatto 35 giorni di campagna sempre fuori? sempre fuori al nord ma dove arrivavate Filo? da Casalgrasso perché dopo era in provincia di Torino ah non potevate andare? si potevamo ci voleva un altro parmese hai capito poi andavamo su Cervasca, Vignolo un po' dappertutto un po' dappertutto ma cosa fai? orzo, grano? grano avevamo più che altro grano e adesso questi anni abbiamo mais 150 giornate di mais facciamo un'intervista ci spostiamo continuiamo dopo spiegami un po' caicò si va che facciamo vedere perché io cosa posso dire qua di queste vacche qua grasse super vacche 995 kg cosa vuol dire? 995 kg questa? sì quella lì? questa nuova pesata e quella lì vicino del Soglio guarda qui che c'è allucinio del Soglio ciao Roby 980 980 eh beh quasi 1000 kg Roby cosa hai qua da farci vedere? niente niente? prima qua mi facevano i complimenti per il video che avevamo fatto nella tua azienda ti ringrazio ti ringrazio questa ragazzina qua non va a scuola come tutti niente perché? c'era la fiera ah continua così la scuola è il tempo vai avanti così ho fatto ombretta cosa stai facendo lì? sto segnando la vittoria tutti 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 in Liguria in Liguria vanno questi? sì tutti in Liguria se avete bisogno di bovini piemontesi ombretta il top numero uno la numero uno la dronerese dronerese giusto? dronerese 2 vuoi lasciare il numero di telefono se qualcuno ti c'è sempre qualcuno che cerca ma chiedono a te non c'è l'altro chiedo ti passo il contatto non lo trovi ma te sei? caraglio ma eh? caraglio ma sei? ma chi sei? ripeto ripeto ma fai il commerciale? no agricoltore ah sì? ah sono tuoi e li hai venduti a lei? ma dove sei a caraglio? in Paschera vengo a trovarti un giorno sono le cose più belle le realtà piccole ma in Paschera dove? in Paschera in San Carlo mio figlio ha la stalla lì che tiene le pecole ah in San Carlo adesso chiudo qua e poi ti spiego adesso è arrivato un signore ve lo presento chi sei tu? grigi Giampiero e quanti anni hai che pratichi il mercato qua? qua da quando l'ho appena sì ma quello di Cuneo là ho cominciato che avevo 20 anni e ora? e ora sono del 39 fai un po' il conto bravi bravi quindi la Cuneo io mi ricordo ancora io che ero piccolo andavamo con il camion bellissimo era la meritava fare le fiere sì tutti i lunedì mattina c'era Prunotto d'Alba c'era il Boasso Pignolo Masino Agosto tutti i negozianti che compravano e io andavo sempre con mio cugino Boglione quello dei camion sono di Monasterolo di Savigliano sì sì sono i primi è il primo che ha comprato il camion a due piani qua c'è rimasto ancora del vecchio mercato quelli come si chiama? quelli che sono a Mondovì Alma c'è rimasto ancora Alma ahima non ci sono più loro sono ancora che erano al vecchio mercato ah boh ma io facevo poi Fossano il mercoledì c'era Carmagnola c'era Moncaglieri che passano Carmagnola Moncaglieri c'era Asti c'era cosa poi c'era la Fiera di Alba Carrù sì sì va tutto a perdere va tutto a perdere comunque continua ancora così ma hai ancora degli animali qua? sì no c'ho questo che hai comprato quello lì? sì no da ombretta da ombretta di Dronero no l'ho preso da lui ah perché ho visto che ombretta aveva gli animali qua ne aveva tanti io ne avevo uno basta già che è andata bene ma poi allevi ancora o no? lui l'ha allevato ah però tu l'hai comprato adesso adesso lo macello gli ammattatoio stanotte me lo portano poi lo vendo in macelleria ah ho capito viene lavorato lo spolpiamo capito forza Milan ma che Milan ma che Milan ma forza Torino che non sei seri ma dicevi te macelli questi vitelli qua che sono da latte si chiamano da latte e la tua clientela? eh vengono a comprare e vogliono quella carne lì ma da dove da dove arrivano? dal paese da di fuori da tutte le parti ma anche i milanesi così quando vengono d'estate specialmente in vacanza a fare i bagni allora lì lì mangiano bene mangiano morbido vorrei vedere non saprei più di lì cosa fare ne macelli tanti a settimana? adesso uno sì uno no d'estate poi andiamo su come arriva gente sì 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 ok e questo hai preso il primo premio è lì ah il mio nome è grigio sempre io lo devi fotografare dietro lo vedono meglio perché vedi il culo che è grosso sì 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 ma l'ho già preso anche prima adesso gli passo dietro eh una bella forma qua si mangia bene bravo i tuoi clienti possono essere contenti guai non mi lasciano chiudere io volevo chiudere ma lavori ancora? sì no ma goditi la vita vai al mare ma me la vado lo stesso quanto pesa una essere 3,20 3,18 3,15 bella bella forma bravo te continua così altri centanti voglio vederti ancora sì 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 ma io sono sempre in giro vengo a trovarti giù se vieni a trovarmi ti porto dove sei? a Pietraligure a Pietraligure andavo 35 anni fa giustelice in vacanza i capretti tranquilli 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 per Pasqua mangia un agnello che fai vivere a un pastore la volta è presente in tutte le manifestazioni dove ci sono gli animali ci sono le parole della sindaca per ringraziare chi ha organizzato chi nonostante questi tempi che si crede comunque in quello che è la nostra assoluta totale eccellenza voi sapete che noi in Europa siamo alle prese con la carne sintetica perché è una grossa problematica per quello che riguarda noi produttori di carne e produttori di quello che è l'eccellenza della carne sicuramente in Italia e in Europa e quindi l'ospicio è che si possa assolutamente arrivare alla valorizzazione la protezione del prodotto del prodotto genuino di qualità perché è la strada che noi come provincia di Cuneo come parte del Piemonte anche abbiamo per poter compendere cioè la carne buona va riconosciuta il prezzo deve essere quello adeguato per gli sfoggi che vengono fatti per mantenere anche questo nostro prodotto di grande qualità grazie a tutti grazie a tutti mi scusi se partirò un po' prima ma devo arrivare per sempre il mio e buona fiera a tutti e io credo che questo sia uno dei forse pochi anche momenti per celebrare quella che è una tradizione una cultura un'identità delle radici che abbiamo nella nostra provincia che è molto bene rappresentata dagli allevatori e dal frutto del loro lavoro del loro sacrificio del loro impegno quotidiano perché un animale così non si lascia da solo qualche giorno e quindi questo impegno anche il nuovo ministro della sovranità alimentare delle foreste dice tutto quanto il valore dei nostri prodotti indica una direzione con questa sovranità alimentare che guardate parte proprio da qua da queste situazioni come quella che noi abbiamo nella nostra provincia una filiera importante la razza piemontese che è frutto di lavoro decennale anche per quello che riguarda il miglioramento della razza per avere un prodotto sempre più garantito e sempre più di qualità eccellente e come diceva bene Gianna c'è un attacco proprio alle nostre produzione portando in qualche modo a far pensare che la carne sintetica sia un prodotto alternativo a quello a cui siamo abituati ma noi non possiamo accettare intanto anche sotto il profilo ambientale per fare carne sintetica si distrugge ancora di più l'ambiente c'è molto più bisogno di acqua e certamente non è una cosa che è ecosostenibile e quattro invece le nostre produzioni che mantengono i nostri territori io arrivo da anche Argentina dove d'estate le nostre montagne si popolano dei quattro zatte e credo che quello sia ancora un bel momento della nostra comunità di convivere con quelle che hanno delle tradizioni ma soprattutto con la fatica che ogni volta e ogni anno io rispondo anche in chi porta che invece è capitato anche con tutto il problema degli attaci predatori allucinante vedere che negare anche un vitellino appena assalito da un lupo rimane la testa e la coda, non c'è nulla in mezzo e io credo che questa debba essere una battaglia per la quale non è fatta contro il lupo ma per la gestione del lupo che in Italia ancora oggi in qualche modo fatica ad accettare perché va bene l'attenzione all'animale ma c'è l'altro animale dall'altra parte che dobbiamo difendere perché a me piacerebbe far vedere a tutti coloro che si scandalizzano quando si parla di questi lupi ma piacerebbe vedere l'effetto dei lupi sulle pecore, sulle caprette che ormai viaggiano nelle nostre città in modo veramente civile quindi cerchiamo un po' fronte casa e quando dovesse magari incrociare un bambino io non so cosa possa succedere quindi i temi e le battaglie che vogliamo portare avanti sono tanti ma dobbiamo avere solo un faro di riferimento che siete voi allevatori perché noi ci pregiamo e siamo orgogliosi del vostro lavoro e oggi davvero io applauso lo farei a loro perché dobbiamo dirgli grazie e essere debitori perché oggi non possiamo parlare così bene di un prodotto che è frutto delle loro fatiche. Grazie a tutti, buona Pasqua e ci vediamo un po' in montagna sperando appunto in qualche pioggia in più e soprattutto in una politica che sappia adesso ricorrere un problema ma anticiparlo nel prossimo futuro. Grazie 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 Con l'opinione pubblica e con tutti. Ringrazio tutti quanti gli espositori qui oggi per il nuovo lavoro, il sacrificio e soprattutto tanta passione, perché se non ci fosse la passione, qui oggi gli animali non ci sarebbero nessuno. Stiamo chiedendo veramente perché la Paz faccia qualcosa. La Paz era nata come un'integrazione al reddito. Adesso purtroppo la Paz si ha presentato il reddito stesso, perché il reddito degli animali non c'è più. Questo lo dobbiamo dire forte e chiaro. È vero, i costi di produzione, proprio pochi giorni di fatto, Alvio ha portato un documento all'assessore regionale all'agricoltura Portopapa, dove i costi di produzione stanno all'incirca 4,50 euro. Oggi qui gli animali si spunta, il mercato dice da 4,20 a 4,40 a 4,50 massimo. Non ci sta in tempo, è inutile. Vuoi avere la passione che vuoi ma non puoi più continuare a fare questo lavoro. E mi spiace soprattutto per i giovani elevi, i giovani elevi e i ragazzi come potrei essere io o tanti altri, che purtroppo non possono più portare avanti questo lavoro dei genitori, ma devono fare altro. Vedendo invece i temi un po' più concreti, ringrazio l'appello che mesi fa ha lanciato la sua direzione, qui vedo Paolo Quaranta Presidente e il direttore Pugliano Porco, contro il cibo sintetico. Ringrazio anche il lavoro che sta portando avanti l'Europarlamento, l'Europarlamentare da megancia, appunto proprio contro questo nuovo frontiere del cibo sintetico. Perché il cibo sintetico purtroppo vuole dire che questi animali che vengono allevati con un sacrificio, passione e allevatori, purtroppo non saranno un destino rosso. Che cosa fa la regione Piemonte? La regione Piemonte parte adesso con un nuovo piano di sviluppo orale, che partirà appunto adesso con il 2023 e finire nel 2027. Dove, soprattutto per quanto riguarda la polvina di razza piemontese, dobbiamo valorizzarla, perché qui c'è davvero una qualità immensa, una qualità eccessa. Però la qualità non possiamo sempre solo dirci da noi, non bisogna portarla al di fuori, bisogna farla conoscere al di fuori del nostro confine, che non è solamente un confine ragionale o un confine del nord-ovest, dobbiamo anche andare al di fuori del nostro confine nazionale, fare capire che davvero la calma di volvini, l'altra polvina piemontese, è qualcosa di eccezionale, qualcosa che non tutti possono avere, è un qualcosa che deve essere valorizzato, valorizzato dal frutto di vista economico, in primis per l'idea. Buona Piero di Quaresma e buona Pasqua a tutti. Il secondo premio va all'azienda agricola La Fasetta, Euro 50 più Quadrappa. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. allevare appunto i vitelli sanati bene complimenti il secondo premio va a ferro ma c'è anche un terzo premio c'è anche il terzo premio sempre a ferro e giovanni battista quindi questi erano i sanati maschi che diamo a bovecchi Grazie. 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 Grazie.